La prima partita al primo minuto, come si è trovato e se l'ambientamento si è avuto o se è avuto un'ambiente? Come va a giudicare questa partita per Tumani? Ha detto che è una grande prestazione, ma l'avventurato pareggio non si segna. È vero che ci sono tanti problemi di attacco, ma non è vero che alla fine chi scende in campo non deve dare qualcosa di più per superare anche l'assenza. Certo, quello sicuramente, però diciamo che anche la fortuna in queste partite non c'è mica, visto anche la traversa di Sonni. Però dobbiamo essere bravi a creare qualcosa di più e soprattutto magari fare la scelta giusta nell'ultimo passaggio. Nel primo tempo siete stati molto bassi con il Valicentro, una scelta vostra oppure è stato il Catanzaro a tenervi così? No, ovviamente noi ci regoliamo in base anche all'avversario in che modo vuole giocare. Perché ovviamente se gli esterni loro, i quinti, stavano molto alti è normale che i quinti nostri dovevamo stare un po' più bassi. Però penso che la partita si valuta quando inizia e ti regoli in base all'avversario. Ciao Danilo, buonasera. Buonasera. Nell'ultima partita, nell'ultimo poste gara, Mr. Braille ha detto che ti aveva assicurato del fatto che il suo momento sarebbe arrivato. Un po' di dispiacere per quel contropiede che è sfumato. Però stai rimostrando una grande luttività sia nel 3-5-2 sia nel 4-3-3. Stai mettendo a disposizione anche la tua esperienza. Pensi che questo ambientamento proceda al punto di poterti davvero dare sempre più in linea di in campo? Sì, diciamo che sono due moduli che ho quasi sempre fatto. Però il mister mi aveva inquorato per il gol sbagliato in contropiede, che ovviamente mi sono allungato all'ultimo la palla. Però mi aveva detto che arrivava il mio momento. Io dovevo essere bravo a farmi trovare pronto, diciamo. Abbiamo visto anche subito sul primo pallone chiamare l'incitamento della curva. Giocare con i tifosi è davvero un'altra cosa. Non c'eravate nemmeno più abituati. Esatto. Abbiamo fatto un anno giocare senza nessuno ed è brutto giocare senza i tifosi. Soprattutto con una curva come Avellino che ti dà quel qualcosa in più. Cosa è la differenza da Vigio? Secondo me, visto che si è veramente a te. Diciamo che magari ha un po' la fase difensiva. Non lo so, dovete dirmelo voi. Diciamo che lui è un ottimo giocatore e ci dobbiamo giocare il posto. E quindi non c'è né malizia né robe. Anzi, ci mancherebbe. Chi sta meglio gioca. Il fatto di essere asseguiti dalla vetta, vi potrebbe condizionare, nel prossimo partito, che l'annaventorello di questa teglia di campionato comunque ora vi impone, già da partire da me, di fare uno scatto in avanti, di recuperare quello che avete perso in casa perché è purtroppo in casa. E noi abbiamo un'attività, fondamentalmente, non più di questa sera, ma anche di questa casa che si deve comunque gestire diversamente. Sì, diciamo che adesso, come adesso, la classifica è un po' inutile guardarla. Però ovviamente sappiamo anche noi che, come ho detto prima, dobbiamo cercare di fare i più punti possibili, di vincere le partite e stare dove meritiamo di stare perché la nostra posizione è là sopra, lo sappiamo. Grazie a voi.